Ecco, stanno facendo ingresso in campo i piccolini della scuola calcio della Virtus Castelfrentano. Il primo gruppo c'è il mister Nicola di Campli. Stanno facendo il loro ingresso. Il primo gruppo. Qua ci stanno i piccoli della Valle Aventino. Qua ci sono i piccoli della Valle Aventino. Pubbici, genitori. State belli i composti, state belli i composti, ragazzi. Bimbi. Ecco, sta facendo l'ingresso in campo il gruppo. Sì, sì, il gruppo, ecco, famiglia vicino a me. Ecco, il gruppo di mister Gabriele Di Felice, il nostro coordinatore tecnico. E c'è anche il gruppo della nostra mister Anna Rita Valente. Con la classica tenuta giallorossa. Ecco, mo' arrivo. Con la classica, ecco, vestito da portiere, bravo. C'è un altro gruppo di mister Giulio Massimini con la divisa nero-azzurra. Adesso ci sono schierati. Ecco, mo' faccio la foto, ragazzi. State seduti. Grazie. Ecco, pure i piccoli della Valle Aventino, con la classica maglia giallo-verde. Ecco, state pronti per una foto? Ecco, mo' vengo a fare una foto, piazzali. Ecco, qua c'è pure il gruppo di bimbi della Valle Aventino. Qua c'è il gruppo della Virtus S. Frenzano. Bravi ragazzi. Qua c'è il gruppo di Giulio Massimini con la classica tenuta nero-azzurra. C'è il mister Gabriele, mister Anna, qua c'è il mister Nicola. Ecco, mo' vi faccio la foto. Mister Nicola sta qua, con i suoi piccoli. Ecco, mo' facciamo la foto. Adesso facciamo una fotografia. Sì. Tutti belli composti. Ecco, 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 ecco.